Andiamo, andiamo, andiamo. Direttore, direttore! Cosa c'è? La prego, mantengo un po' d'ordine. Ma lei, caro signore, mi ha guastata tutta la commedia. Mi dica ora come si fa a continuare con questo guazzavullio che mi ha fatto nascere. Ora io voglio un bacio nascere. Direttore, direttore! Cosa c'è? Ma dica agli attori di continuare. Ma continuare a far cosa? Oramai lo svolgimento logico della commedia è compromesso irrimediabilmente. Non esageriamo, voi sapete bene che la vostra commedia non vale nulla. Lasciate fare a me, la comodo io come si conviene. Baronessa, continui pure. Uffa, direttore, cosa devo fare? Devo andare avanti. Ma naturale, cara. Andiamo a dove eravate rimasti. Su, suggeritore, avanti. Ho ricevuto esatte informazioni sul vostro conto, signorina. Ho ricevuto esatte informazioni sul vostro conto, signorina. Ma danzatrice di tanghi. Ma danzatrice di tanghi. Sta scritto proprio così sul copione? Ma naturale. Ma le pare che il suggeritore legga delle cose che non sono scritte sul copione. Ma bene allora, maestro, prego, un tango. E' un tango senza parole. Ogni attore potrà dire su questo ritmo appassionato quello che il proprio cuore detterà. E' un tango, ma senza parole. Ciascuno, se vuole, lo può completare col suo pensiero. Pensare che cosa si pensa, soltanto la mensa mi dà da pensare. Che cosa si pensa, soltanto la mensa mi dà da pensare, soltanto la mensa mi dà da pensare, soltanto la mensa mi dà da pensare. Che cosa si pensa, soltanto la mensa mi dà da pensare. Che cosa si pensa, soltanto la mensa mi dà da pensare. Che cosa si pensa, soltanto la mensa mi dà da pensare. Che cosa si pensa, soltanto la mensa mi dà da pensare. Grazie a tutti.